Dall'esperienza del Rione Sanità di Napoli si possono conciliare cultura e lavoro, cultura e giovani, lavoro e giovani? Si devono assolutamente conciliare. Noi alla Sanità siamo stati visti e a volte premiati per la cura che abbiamo, non soltanto per il patrimonio storico-artistico ma per le persone. Le persone sono l'anima, sono l'essere del patrimonio storico-artistico. Quindi abbiamo quasi coniato uno slogan, la cultura della cura e la cura della cultura vanno sempre di pari passo, sono inscindibili soprattutto a noi del Sud. È un modello che si può replicare come nel caso di Manfredonia? È un metodo più che un modello che può essere replicato. Cambiano gli oggetti, cambia la catacomba ma beni storico-artistici o paesaggistici ne abbiamo troppi, fin troppi, e di giovani anche, e di disoccupati non ci mancano.